Annamo! Adesso, se lo facciamo, ti faccio uno squillo. No, allora, a parte gli scherzi, che cosa ha chiesto il Duca? Il Duca ci ha chiesto di mandare un video di massimo tre minuti. Credo che ci abbia chiesto tre minuti perché sa che avremmo parlato in eterno. Per quanto riguarda del perché non giochiamo più a Durston. Andiamo a vedere che cosa dice la varia gente. Ognuno di noi dà dei motivi che in realtà sono sempre gli stessi. Del perché non streama più ladder, del perché non gioca più ladder, del cosa gli fa schifo della ladder, con consigli e anche appunto dei motivi seri della cosa. Faccio partire? Mi muto mentre vediamo la prima parte di Bootylicious. Uber, giocatori italiani di Hearthstone. Il Duca mi chiede, ma come mai io ho smesso con Hearthstone gioco di kite? Beh, innanzitutto perché gli Autobattler sono un po' più moderni e quindi io sono stato rapito da questo nuovo genere e quindi mi sono buttato lì come me altri, ma non per cattivera, non perché Hearthstone per la forza fosse brutto, avesse rassissime pecche, ma perché semplicemente ha un po' stancato. Perché ha stancato? È questa la questione. Secondo me ha stancato perché negli anni, soprattutto anni fa, ci sono stati 4 o 5 anni, 3-4 anni magari, in cui ha campato di rendita. Vabbè, allora raga, Booty vi riassumo le sue motivazioni. Primo perché BG per lui è incredibile, infatti io Booty lo stimo perché è stato il primo a vedere che ha fatto vedere... e si è andato direttamente su BG, ha bollato tutto e si è dedicato a quello e mi ricordo quando andammo in Francia, disse, a me Atrix disse, io con questo ci campo, cioè proprio ce l'aveva proprio detto. E va bene, poi per quanto riguarda la parte relativa al Hearthstone campato di rendita, concordo al 101% con lui, lo diranno molti altri in questo video, il Booty sostiene, e sosteniamo tutti, che Hearthstone per numerosi anni non ha fatto un cazzo. Verissimo, verissimo, non è un'opinione, è esattamente quello, cioè negli anni d'oro, quando anche noi giocavamo ad Angoro, come dice lui, o ad altre espansioni, a bei momenti di Hearthstone, ci stavamo divertendo, noi ci stavamo divertendo con il minimo indispensabile per poterci divertire. Se a quell'epoca Blizzard avesse seguito il gioco come lo fa oggi, questo gioco attualmente sarebbe una bomba atomica. Lo sappiamo, il più grande lamentela che abbiamo sempre portato avanti io, poi lo sento che lo dice molto spesso Atrix e molti altri, è il fatto che Blizzard per anni ha fatto silenzio, stampa, faceva una patch ogni quattro mesi. Quando arrivava un nerf, apriti cielo, grazie Blizzard, cagami in gola perché siete delle bombe, ma al tempo era seguito veramente poco rispetto ad ora che invece è mega seguito. Q&A, patch, patch note, nerf, modalità, modifiche, poi fanno a cagare, però questo è un altro discorso. Quindi il momento in cui noi ci stavamo divertendo, non ci stavamo rendendo conto che il terreno sotto di noi iniziava a sgretolarci, a sgretolarsi, perché davamo per scontato che mentre noi stiamo giocando a questo, Blizzard sta lavorando ad altro. In realtà quello a cui ha lavorato, l'unico colpo positivo è stato BG, perché l'unico colpo positivo spallato da Blizzard su Arston negli ultimi anni è Battleground, con tutte le sue patch, Mercenari no, il Demon Hunter no, Duelli purtroppo no, un sacco di stronzate, ma appunto è arrivato molto tardi tutto questo, è sempre arrivato molto in ritardo. E vabbè, e questo per quanto riguarda Budilichus. Melia parla un po' del circuito eSport di Arston e dell'RNG. Sentite. Prima di passare le critiche, Arston è il modio per cui sono qui, è il modio per cui credo molti di noi sono qui, quindi va dato atto alla Blizzard che ha creato il primo card game online, che non solo ha funzionato ma ha fatto il botto, e grazie a questo, almeno personalmente, potete iniziare una carriera come giocatore eSport, e poi quindi anche su Twitch e su YouTube, quindi grazie sempre a Arston e a Blizzard per aver dato inizio a tutto questo. Questo è vero, non lo diciamo mai, bravo Meliador che l'ha detto, molto democristiano ma corretto, se siamo qui tutti è grazie ad Arston, quindi comunque gli va detto grazie a questo gioco, va detto grazie a questo gioco, ma non per forza come ho letto da alcune parti, visto che è il gioco che ci ha dato tanto, dobbiamo continuare a difenderla anche quando ha degli evidenti problemi. Esatto, carissimo. Gli anni passano, i giochi prendono spunto, il mondo si evolve, Arston non si è evoluto a mio parere, soprattutto perché, da come l'ho vista io, e siamo già in due, su due, che dicono che Arston non si è evoluto. Aspetta che mi sta chiamando il mio amico, Dio Cristo. Dal punto di vista del gioco, penso ad esempio, a idee come Yogg's Aron, come i Death Knight, in un gioco in cui i leggendari possono essere giochi soltanto in monocopia, mettere una carta che cambia completamente la partita, che però può essere giocata soltanto in monocopia, quindi può essere pescata all'inizio, può non essere mai pescata, non è il massimo, l'RNG esagerato di carte come Yogg's Aron, che poi entravano nel competitivo, ha reso tutto un po' frustrante, per chi voleva giocarsi un po' più seriamente, capisco che magari il Dugan invece sia stato bellissimo, però insomma, io ricordo tornei anche importanti decisi a Yogg's Aron, non era proprio il massimo. Allora, quello che ha detto qui Emelador è completamente sensato, cioè, dal suo punto di vista, che secondo me non è il punto di vista che dovremmo avere noi, cioè non è il punto di vista che dovrebbe avere Blizzard, l'utente o Blizzard, l'RNG non è buono. E infatti l'ho sempre detto, Arstons cerca di proporsi come una via di mezzo tra una competizione e un casual game, e non fa bene nessuna delle due cose, perché quando fai troppo casual game, non puoi fare l'eSport, e quando fai troppo eSport, perdi la fetta di casualoni. Purtroppo non riescono a bilanciare queste due facce, quindi o iniziano ad introdurre una ban list di carte per i tornei, e a quel punto fai dei server dove effettivamente una ladder dove ci sono carte bannate per chi si deve allenare per i tornei, quindi ladder per i tornei, ladder per i casualoni, con annesse rank ed eccetera, oppure purtroppo qualcuno si incazza. Il pro e il casualone si incazzeranno entrambi a momenti alterni. Quel momento Meliador si è incazzato, quando, me lo ricordo anch'io, la prima versione di Yogg-Saron era qualcosa di insana. Yogg-Saron, la prima versione di Sussurri, prima del nerf, era veramente spudellante, si giocava nel Jade Druid, ed era una carta importantissima. Molto spesso, mi ricordo, dei Grandmaster e tornei, vinti grazie a Yogg, più di uno. Quindi, se dal nostro punto di vista è stupendo, del casual player che vuole arrancare eccetera, nei tornei questa cosa è devastante, è sbagliatissima. Infatti Blizzard deve semplicemente capire che ci sono due facce, e devono provare per accontentarle entrambe, basta filtrare determinate carte nei tornei. Per noi sono carte che danno linfa vitale e rigiocabilità infinita, per i tornei sono invece quello che tolgono la linfa vitale. Quindi mettete un filtro, togliete queste carte per chi compete nel girone eSport, loro sono contenti, noi siamo contenti, chi si è visto si è visto. Questo so io, vi faccio un riassunto, anzi guarda, non vi faccio nemmeno un riassunto, tanto è esattamente quello che dico ogni giorno in stream, ovvero che non ci si può basare su Arston per fare questo lavoro, sono io, sì, non ci si può basare su Arston per fare lo streamer, perché Arston è troppo inconsistente, Blizzard fa troppe cappellate, al momento lo sto riducendo al minimo, ammetto nel video lo dico, non lo sto abbandonando, lo sto riducendo, al minimo possibile ribadisco la ladder, non la sto proprio toccando in stream da quando è uscita l'espansione, dalla ruota non l'ho più fatta, gioco solo a VG, VG non è Arston, lo riuscito a sottolineo, se in futuro dovesse arrivare una bomba atomica come novità, ma a quel punto sarò pronto e disponibile a riprovare la ladder e dare una nuova possibilità alla ladder. Adesso vediamo quello che dice Turna, e Turna dice delle cose molto importanti. Ciao Ducam, ciao ragazzi, mi è stato chiesto come mai, secondo me, la ladder non è più giocata come in passato, le motivazioni sono molteplici, secondo me, tralasciando che VG è più nuovo, ma non è solo quello, perché chi magari non è passato a giocare a Battlegrounds, o ha smesso, o è passato a un altro gioco, quindi c'è anche quella fetta lì, quindi non è perché VG è più bello e la gente passa a giocare a Battlegrounds, ma è proprio perché la ladder ha dei problemi che non sono stati risolti nel corso del tempo. Per fortuna esiste VG, perché VG ha dato la possibilità alla gente che si stava stufando della ladder a passare dalla ladder a VG, cioè rimanere nell'ecosistema Hearthstone e non abbandonarlo del tutto, i sottotitoli li ho messi apposta, sì. Il problema secondo me principale è la mancanza di freschezza, cioè le carte nuove in realtà non sono mai nuove, sono carte con meccaniche che è già vista in passato, non c'è la novità che ti incuriosisce, dici voglio esplorare questa nuova carta, sono cose che già vi avrei già provato se giochi da molto tempo. Cosa, cosa essenziale di Hearthstone, cioè verissima, veramente verissimo, è il fatto che man mano che escono espansioni non si osa su delle novità, ma semplicemente si riciclano meccaniche. Raga, Alterac Valley si potrebbe chiamare Valle del Riciclo, è letteralmente Recycle Valley, sono carte di mille espansioni messe insieme, c'è zero innovazioni in Alterac Valley, forse l'espansione con meno innovazioni in assoluto, prima era, prima era, come si chiama, sussurri degli idee antichi, nella mia tier list, questa è la peggio dei peggio, veramente disastroso, Alterac Valley, sotto questo punto di vista è zero novità. Per esempio, a nuova espansione sono uscite le quest, sono usciti i DK, già visti, eroi e DK, attenzione raga, una piccola osservazione, i DK non sono carte eroe, i DK, DK sta per Death Knight, Cavaliere Morto, ok? Cavaliere della Morte, i Cavaliere della Morte sono esclusivamente le carte eroe di Frozen Throne, esclusivamente quelli sono i DK, perché sono i Cavaliere della Morte morti fightando il Re del Leech, sono loro 10 DK, qualsiasi altra carta eroe è una carta eroe, ok? DK sono DK, carte eroe, sono carte eroe. Eh, va detto, va detto, va detto, va detto, va detto. La nuova keyword è semplicemente un overkill leggermente modificato, no? Verissimo. Uccidere un pezzo preciso, wow, no? Non è nulla di che. Lo vedi Marco è completamente entusiasta da overkill. Nulla di nuovo, trashando. Io ricordo che lui ha vinto la parte dell'IS della ladder, ma poi c'è anche la mancanza di tutto quello che sta attorno, cioè a lungo andare e col fatto che poi il legend è stato anche semplificato con l'aggiornamento di cos'è un anno e mezzo fa quando è uscito il DK e che secondo me ancora ha tolto longevità perché se una volta si giocava per puntare a fare legend, se fare legend è facilissimo lo fai in un giorno, non è neanche non è neanche quell'obiettivo o magari a un casual che lo sprona a continuare a impegnarsi. Fai legend in un giorno e dici, ok, adesso io cosa faccio? Questo è verissimo! Per me questa cosa qui è verissima. Proprio la verità assoluta. Questa, ragazzi, è verità assoluta. il fatto che legend si faccia in un pomeriggio se hai fatto legend il mese prima ci metti 4-5 ore per fare legend per me è disumano, ragazzi. Cioè, fare legend in un pomeriggio è vergognoso. È troppo facile raggiungere l'obiettivo più alto del gioco. È stato semplificato non tanto, troppo e quindi adesso l'obiettivo più alto che è una persona che non è fare top 30 visto che non ti cambia niente avere 2 numeri invece che 3 o 4 numeri invece che 5 non è assolutamente una differenza è troppo semplice troppo, troppo semplice non c'è neanche la sfida fare legend, ragazzi se non fai legend ormai sei uno stronzo cioè ho già raggiunto il mio scopo quindi hanno tolto anche l'obiettivo e secondo me poi personalmente anche da pro player o da giocatore che comunque è venuto da Yu-Gi-Oh! in mio caso che comunque conosce giochi di kart che sì, sono calati rispetto al boom come ci sta però comunque sono ancora in vita in Erso non manca totalmente il circuito competitivo ma a livello regionale nazionale quello sarebbe fondamentale cioè se si potesse giocare a un torneo con altre persone ma non a livello a livello massimo assoluto che è per pochi è proprio la punta ma anche a livello intermedio già quello secondo me motiverebbe molti a giocare di più esatto perché non puoi fare dei tornei accessibili solo a un numero ristrettissimo di persone se tu vuoi creare un competitivo e dare la possibilità a tutti devi renderlo molto più aperto invece è un circuito molto stretto che diventa sempre più stretto poi peraltro l'addero ormai ha perso tantissimo rispetto al al bel mondo che era in passato ciao Marcone allora perdonami Matrix è sempre sobrio tutti i seri tutti i seri lì ci dice fai un bel video poi arriva Mattia con la felpa con le pizze allora farò questo video di getto magari non spallerò tutta la merda che dovrei se non lo faccio mi dispiacerà però insomma ti parlerò dei punti per cui l'addero fondamentalmente a me onestamente piace meno o piace meno comunque di dire ti anni fa il mio discorso è il discorso umano quando uno fa una cosa per troppo tempo non può essere un bel cazzo molto molto frivolamente è matematico verissimo eh questo non l'abbiamo mai detto diamo per scontato che sia così no però ecco ovviamente se dall'altra parte c'è modo di rinnovare il gioco di renderlo più bello magari di rotto il caso più tardi il gioco si è rinnovato poco diciamo poche migliorie poche cose d'impatto al momento di 5 streamer 5 hanno detto che il gioco si è rinnovato troppo poco nei primi anni per dire ma c'è un punto che secondo me oltre al fatto che magari il meta è poco vario ci sono troppi mazzi ottikappa perché gli piace una mazzi ottikappa ma sono frustranti perché c'è una cosa solo alcune classi non si giocano mai alcune classi giocano troppo sbilanciamento di carte nelle espansioni escono troppi carte fill troppe poche carte di impatto ti vediamo buona certa se ne va oltre a tutto questo che è comunque vero che alla fine fa somma di dettagli che io odio e che secondo me il motivo per cui personalmente l'albert ha perso un sacco di punti negli anni ossia la poca rinnovabilità non ci sono mazzi nuovi non ci sono archetipi vincenti ogni volta che fa un archetipo nuovo bisogna fondamentalmente fa mazzo d'arlechino so che si dice comunque di arlechino di un mazzo di merda e qui tu buildi questo mazzo con tutta la voglia di poterlo giocare perché è un mazzo un archetipo nuovo con le carte 9 poi becchi ormai fondamentalmente da 20 anni il tempo rughe che copre il tempo rughe ormai giocando fondamentalmente dagli alberi dei tempi ti ammazza e ti distrugge con l'S7 abbastanza triste no? abbastanza triste questo è molto questo è molto vero e per questo ricordo che questo non è un problema che è nato negli anni ok? cioè non è dici ok si è creato negli anni questo problema l'ha creato Blizzard e tuttora Blizzard questo problema non lo riconosce come un problema per Blizzard l'identità di classe è sacrosanta non esiste che Rogue non faccia questo non esiste che Rogue si curi non esiste che Pala possa pescare non esiste che Warrior possa curarsi non esiste queste meccaniche per Blizzard non esistono perché è l'identità di classe solo che questa cosa qui danneggia un sacco il card design comunque anche quello che dice Mattia è sacrosante lo condivido tutto dall'alba al tramonto eh veramente immagino già i miei colleghi quante cose maligne avranno detto sulla ladder di Hearthstone ebbene io ci gioco ogni tanto la ladder di Hearthstone il problema è che ci gioco perché devo perché gioco su due server e mi sono dato come obiettivo fare legend ogni mese su entrambi i server provare anche ad andare un po' più in alto in modo che se ci fosse un qualcosa di competitivo che mi interessa posso provare appunto a raggiungere degli obiettivi e lui ci sta giocando perché praticamente si sta tenendo la possibilità di guadagnare soldi fra tre anni qualora dovesse accadere già ad alto livello senza dover appunto ricominciare da capo quindi per accorciare i tempi quindi gioco molto per inerzia e c'è da dire che non è la mia main modalità perché è molto ripetitiva ci gioco molto poco però per questo motivo ci gioco quasi perché mi sento obbligato e tanti meta ormai sono una serie di carta, forbice e sasso tra i matchup non c'è più la sorpresa non puoi sorprenderti di quello che ti trovi contro non puoi sorprendere gli avversari con un qualcosa di tuo cosa che non accade con altre modalità di Aarston diciamo che Aarston ormai è un grande parco giochi e la ladder sono i calci si può dire la ladder sono i calci in culo fine un po' li prendi un po' li dai e questo è vabbè come sempre damo completamente inutile talvolta non siamo un po' troppo severi con gli sviluppatori allora è vero che siamo severi con gli sviluppatori di Zanna io soprattutto sono praticamente incazzato ultimamente però il fatto è che ti dà fastidio almeno a me dà fastidio vedere quante possibilità hanno e quanto li buttano quanto le buttano via ciao Ducone è difficile spiegare in meno di tre minuti perché ho smesso di giocare Aarston o in generale di avvicinarmi un po' troppo a Blizzard certo che vedere un grafico come quello fa capire tante cose ma questi sono gli ultimi sei mesi perdite del 40% ma sono gli ultimi sei mesi io ho smesso molto molto prima che le cose andassero completamente in bacca e ho smesso per vari motivi che è impossibile riassumere qui ma diciamo ci sono due sfere lato content creator e lato giocatore lato giocatore ci sono alcune cose che tuttora si salvano ad esempio Battlegrounds ma ce ne sono altre che invece sono state purtroppo lasciate completamente al macero io penso in primis alla mia amata modalità arena distrutta devastata quando bastava un filino così di cura veramente una personcina soltanto una su un'azienda così grossa uno stronzo molto oddio molto vero io stesso ho cercato io stesso era un player di arena ma l'arena era importabile in streamabile ingiocabile a una certa è diventata una seconda ladder anzi una prima ladder quindi ho abbandonato l'arena bastava veramente uno che dedicasse un'idea ogni sei mesi all'arena andava bene l'hanno iniziato a fare quando ormai ovviamente era tardi come sempre blizzard arriva tardi su tutto blizzard arriva tardi su tutto cosa puoi migliorare dell'arena? carte dedicate all'arena fai un set di carte che metti lì gratis e le sviluppi senza un doppiaggio gli fai fare dei versi metti bestie così non devi nemmeno preoccuparti dei doppiatori gli fai ripete i versi di draghi dei crocolischi che hanno già fatto in passato carte dedicate all'arena su meccaniche dell'arena se hai draftato altre cinque carte questa prende più di uno più uno tutte le stronzate così eh che gli vuoi di? ognuno ha detto la sua ragazzi come avete sentito e vi dico anche la mia che non è molto lontana da quello che hanno tutti gli altri il gioco purtroppo non si è rinnovato è stato fatto il compitino per troppi anni non si è aggiornato non c'è più quell'interesse alle nuove carte uscite troppo spesso ci sono carte che sono identiche se non cambiate per costo per rarità per servitore in magia di carte che già esistevano e manca l'interesse a giocare a un gioco che si è già visto rivisto tritto ritrito incredibilmente ritrito il problema è che questo gioco non è cartaceo quindi essendo totalmente elettronico online si poteva veramente spaziare da tutte le parti possibili immaginabili si poteva aggiungere anche zone della board o situazioni nel gioco come si voleva bastava programmare non è stato fatto assolutamente niente di tutto questo voi immaginatevi una sezione di board dove le carte che vengono posizionate in quella sezione di board sono un po' più belle sono sono al contrario immaginatevi quante stronzate possono fare cioè yugioh non lo so se funziona su yugioh immaginatevi questa cosa e blizzard che ha la possibilità di farlo invece no vabbè e alla fine ci ritroviamo con un gioco noioso vecchio visto rivisto trito ritrito che a ogni espansione ma io questo gioco lo dico da un bel pezzo segna sempre di più il passo oggi blizzard è in difficoltà chiaramente non si prende la responsabilità di fare un passo fuori dal sentiero in questo momento e arston in questo momento avrà bisogno di esplorare non sta esplorando non esplorerà non farà niente di tutto questo e si andrà a una lenta ma ormai conclamata decadenza la parabola è già ampiamente partita come vi ho già detto da anni questa cosa è verissima ragazzi allora adesso blizzard arston deve fare diciamo all in come io ieri su monopoli che stavo perdendo l'unica mossa che puoi fare quando stai perdendo visto che ormai è palese che se si ricomincia con un nuovo ciclo di espansioni senza novità il gioco continuerà il suo declino l'unica cosa che devono fare adesso è ok abbiamo fallito con demon hunter che era una bomba abbiamo fallito con mercenari che era una bomba abbiamo fatto questo e quest'altro purtroppo non ha funzionato adesso devono fare una novità la bomba no la bomba dell'anno la bomba dell'anno scorso era mercenari quella dell'anno prima era il demon hunter non deve essere una nuova una nuova classe perché non è che allora visto che è la nuova classe di che non cambia niente cioè non cambia assolutamente nulla una novità importante tipo un cambio di stile di gioco esempio dico una cagata fotonica non ascoltatela però faccio l'esempio non lo so un modo completamente diverso di quando di cosa succede quando una carta muore una carta muore va al cimitero introducono carte per restarle bene oppure un modo diverso di giocare le carte con una nuova risorsa che non sia il mana il mana rosso il mana verde il mana viola una novità che cambia radicalmente il gameplay anche per coloro che in passato che in passato hanno giocato e dicono wow il gioco è diventato serio e questo è l'ultimo colpo che ha Blizzard la lapide di Hearthstone è lì manca solo l'ultima cazzata e l'ultima cazzata la vedremo fra due mesi cioè a febbraio quando presenteranno le novità va bene ora io non so cosa vogliono fare i planeswalker il cimitero non lo so non ne ho idea io avrei consigli li ho sempre dati spero che li ascolteranno non ne ho idea però adesso Blizzard non può permettersi di fare tre nuove espansioni punto se il nuovo anno porta tre nuove espansioni e una nuova tribe la tribe umano non cambia niente non cambia nulla adesso e l'ho scritto anche nei commenti del video Hearthstone è pieno di fori di proiettile e sta sanguinando espansioni mettono dei cerotti però un cerotto non toglie che tu continuerai a perdere sangue non toglie il fatto che tu stia morendo mette una pezza e rallenta la morte ma la rallenta di poco Altrak Valley è un esempio lampante se le cose stanno andando male male e rilasci e metti un cerotto su una ferita non la stai sanando hai letteralmente dato due giorni di vita in più al gioco di vita intendo prima che continuamente la gente lo abbandoni viene data tanto così di linfa vitale che non è neanche il minimo indispensabile proprio meno del minimo indispensabile e poi il gioco fra due giorni tornerà a sanguinare a perdere utenze invece che a guadagnarla serve una mossa devastante devono fare un'incredibile inversione di marcia devono togliere le limiti delle classi devono dare una nuova meccanica un nuovo modo per giocare alle carte devono fare una mossa forte per dimostrare che il gioco sa innovarsi però questa cosa che fanno non deve essere assolutamente una stronzata non deve essere mercenari 2 non deve essere tengo aperto sto link non deve essere aperto essere dimon hunter 2 deve essere una novità seria punto punto basta